Quali sono le migliori conchiglie per il Krav Maga o quali sono le migliori protezioni per i genitali per il Krav Maga? Parlo chiaramente di protezioni per uomini e non per donne perché questo merita un discorso a parte. Devi innanzitutto considerare che praticamente in tutti gli sport dal combattimento. La protezione inguinale per gli uomini è qualcosa che è pensata per proteggere la persona nell'eventualità di un colpo ai genitali. Invece quello che capita nel Krav Maga è il fatto che i colpi nei genitali sono parte integrante dell'allenamento. Non che ci si colpisca forte ma nonostante questo la protezione deve essere estremamente performante. Spesso le protezioni che ci sono e il set di mutanda più o meno elastica per proteggere i testicoli sono assolutamente inadatte. La conchiglia protegge prevalentemente la parte superiore, non protegge adeguatamente i testicoli e molto spesso si sposta perché la mutanda semplicemente non tiene abbastanza e quindi nei movimenti normali di combattimento succede che si sposti. Per cui paradossalmente se hai una conchiglia che schiva i calci nelle palle meglio del praticante. Ora quali sono le migliori conchiglie e come scegli? La conchiglia deve avere una capienza adeguata da poter accogliere bene i tuoi testicoli. Scusa ma non so come altro dirlo. Le migliori sono quelle da MMA. Quella che utilizzo io al momento ha un grandissimo vantaggio avere oltre a una parte centrale molto robusta e non sottovalutarlo perché a seconda di chi ti capita può anche capitare che la cucchia si rompa se non è di buon materiale. Oltre ad avere un ottimo materiale per l'impatto ha ai lati una parte elastica morbida che fa sì che come arriva l'impatto parte dell'impatto si disperde nella zona pelvica e non sul tipo dei testicoli. Il tipo di mutanda lo stesso che tiene la cucchia è molto importante. Scegliere adeguatamente. Deve avere praticamente uno strato elastico davanti ma deve avere, deve consentire di creare spazio dietro per cui deve essere più larga dietro in modo tale che la conchiglia non abbia il layer dell'elastico della mutanda per cui hai qualcosa che è giusto apposto al pacco più che raccolga il pacco spesso e lo protegga. Un buon sistema è acquistare semplicemente la conchiglia non la mutanda e utilizzare due paia di mutande. Molto rudimentale, molto primitivo ma funziona che è una meraviglia.